è che qua secondo marchettone perché diciamoci le verità Oro Bianco azienda vicino a Corsi nasce fan del secondo me sto male e invece ci guadanti a Corsi se sono innamorati a Corsi gli amici d'Oro Bianco Tecno Monster in carbonio trolley per l'Europa ma domenica so che c'è stato un inquacchio non vuoi far far più l'aereo? no ma lo fa stedì e come è andata a finirla? mi sentivo male ha viaggiato dentro con il capitano con il capitano, il comandante gli volevo l'embarcar trolley in carbonio gli ho detto a Neno ma faccio te i nastri va se no qua non parte e poi adesso questo dopo il sastering va a India, India, Napoli se il trolley gli snazica e io pure devo andare in America amici d'Oro Bianco io devo andare in America anche in Indonesia anche in Pakistan perché questi basta che gli dici sempre presti, sempre presti la Ferrari, sempre presto si le prestazioni sono leggermente diverse carbonio ce n'è e insomma come il Corsi gli ha detto che devono andare a fare trasferte quelle internazionali, intercontinentali boom e arrivano il giorno del carbonio e secondo me sto male devo partire pure io d'Ecno Monster devo partire in sacco di tempo di giorno porto quattro valigie che spettacolo è velocissimo Corsi e com'è in pista ad aprire la Tecno Monster hai asciugato bene per terra Simo? si, sono giro ammazza che spettacolo c'è tanto tanto c'è tanta madre di Dio niente qua arrivano i fotografi per la borsa per la valigia non per che spettacolo molto carbonio quanto è contento il popore attenzio hai visto? ed è il numero è la buona di signorine che mostro no ma è un errore Stefano ristori i migliaia